Bentornati, allora ieri sera sono stato in scala a vedere la prima del cappello di Paglia di Firenze e oggi ve la racconto. Ovviamente essendo un'opera che viene rappresentata con una certa regolarità nei teatri grossi, insomma, perché poi ha detto tutta una serie di costi, di diritti, ancora non è un'opera nel pubblico dominio, che comunque è un'opera abbastanza costosa da mettere in scena, ma comunque nell'ambito di questo è ancora un'opera abbastanza eseguita. Però, dicevo, essendo un'opera abbastanza eseguita, ma non essendo tosca o traviata, credo che due parole, forse anche più di due, sarà il caso che le spenda per raccontarvi che tipo di opera è. Allora, cominciamo a dire che per chi ama la musica di rotta, tra cui il sottoscritto ovviamente, anche io ovviamente l'amo tantissimo, è una bella scoperta. Io ho un'opera che non l'ho mai diretta, l'avevo però studiata tanti anni fa, e francamente l'avevo un po' persa dal radar, per cui in queste ultime settimane ho dovuto, come dire, rimettermi in pari per studiarla meglio. È un'opera molto godibile, molto fresca, che è rotta scritta da 34 anni, ma che è stata rappresentata solo dieci anni dopo. È una delle prime opere di rotta, ma non si può decisamente dire che sia un'opera giovanile, perché insomma, rotta a 34 anni era un compositore fatto e finito. Cioè, nonostante gli stili, diciamo così, che ritroviamo e che costituiscono quest'opera, gli stili musicali sono fondamentalmente riconducibili a tre, diciamo così, vene musicali. Innanzitutto abbiamo subito nell'ouverture una serie di ampie citazioni che ci riportano a Mozart e a Rossini, tanto che sembra quasi che sia un adattamento con un linguaggio novecentesco di alcuni stili e stilemi appunto del fine Settecento, quindi Mozart e Rossini principalmente. Quindi, come dire, inizi con l'ouverture, con questo stile e sembra che questa sarà la promessa fatta nel corso di tutta l'opera. In realtà poi questa promessa non viene mantenuta se non alla fine del primo atto e alla fine del terzo meraviglioso atto, dove pur con un linguaggio moderno aleggiano sempre presenti gli spiriti di Mozart appunto, e soprattutto di Rossini con alcuni ecchi di italiani in Algeria. Il secondo filone stilistico è quello legato sicuramente all'operetta, c'è tanta, soprattutto nell'invenzione melodica, in un certo tipo di armonie, c'è tanto differenziamento all'operetta, non tanto all'operetta italiana che peraltro negli anni in cui è stata scritta quest'opera, quindi anni 40 e poi è stata rappresentata negli anni 50, in Italia era non forte, era fortissima. E sto preparando a questo proposito, per ottobre credo, un video appositamente sull'operetta italiana, che ci ha riservato tante belle musiche e che credo riserverà a voi tante sorprese e cose che non sapevate. Però dicevo, più che all'operetta italiana invece il cappello di pali di Firenze si rifà, diciamo così, all'operetta austro-ungarica, quindi a Lehar, a Benazchi e a tutto quel mondo. Il terzo e forse più importante filone di quest'opera è quello che fa un chiaro riferimento all'opera italiana. Ovviamente all'opera italiana, diciamo così, più vicina a Rotta, cioè quella della Giovane Scuola, cioè quella di Franchetti, di Catalani, di Giordano, evidentemente, anche se, essendo una farsa, comunque un'opera leggera, quindi non è un dramma, non muore nessuno, anzi, è un'opera abbastanza divertente e veloce, ovviamente, insomma, il peso drammatico è ovviamente traslato da un'azione drammatica, come erano le opere della maggior parte della Giovane Scuola, o del verismo, o di quello che volete, a trasportati attualmente su una struttura drammaturgica molto più leggera. Lo stile però è veloce, è godibile, è molto ben orchestrato, è proprio scritta bene, non c'è niente da fare. In particolare è molto saggio l'uso che lui fa delle voci, cioè mostra veramente una conoscenza del rapporto tra palco e orchestra non indifferente. Diciamo che Rotti in quest'opera rinuncia a un lirismo ostentato, ma le linee vocali sono sempre ben scritte e accattivanti, non sono mai buttate via o troppo frammentate sulle linee vocali, come invece spesso facevano i viaristi, però ripeto, su un dramma forte può avere un senso, su un qualcosa di più leggero può averne un altro. Uno stile, se vogliamo, che non è tanto dissimile dal primo Menotti. Ecco, come detto, l'opera è stata scritta nel 1945, ma poi è andata in scena nel 1955. Ecco, a me piacerebbe sapere se tra la scrittura e l'andata in scena sono intervenuti delle revisioni o delle modifiche o qualunque tipo di intervento nell'opera. Cioè, detto in altri termini, mi piacerebbe sapere se l'opera che ho ascoltato ieri sera è stata scritta nel 1945 o nel 1955. Perché, insomma, dieci anni cambiano parecchio, come dire, anche l'invenzione di certe trovate sia armoniche che sia melodiche. E, vabbè, insomma, di questa cosa non sono informato, però se qualcuno ha notizia, magari gentilmente me lo scrivi nei commenti. Per quello che può contare, il mio parere, i limiti di quest'opera sono fondamentalmente due. Il primo è il libretto, scritto dallo sessorote e dalla madre, che non è brutto in sé, ma è decisamente acerbo. Non tanto nel contenuto, ma proprio nella forma, non voglio dire poetica, ma comunque nella forma stilistica, ecco, diciamo così, in molti casi è prolisso. Infatti, se lo paragonate con il libretto di un'altra opera dello stesso periodo, di pari durata, vedete, che è un libretto molto, molto più lungo, quindi è sensibilmente più lungo. A proposito del libretto, c'è stato fatto, anche in questo caso, un ritocco, perché c'è un punto dell'opera in cui il protagonista, per negare che quella donna sia effettivamente una donna di cui si sta parlando nell'opera, dice no, non è lei, dice, è una negra per, come dire, sviare, sviare l'attenzione dal soggetto. Ovviamente questa cosa che si è sempre fatta per tanti decenni, in altri casi è stata sostituita con è una suora, e ieri si è rientrata è un fantasma, ecco. con questa, come dire, pratica che io personalmente non condivido. Cioè, vero è che nella storia originale quella battuta lì aveva un senso diverso, perché arrivava in una maniera diversa, invece buttata soli così può sembrare un po' a sé stante, però, insomma, io non amo proprio, come dire, il cambiare quello che c'è scritto in libretto, perché oggi si ritiene che quella parola che una volta non era offensiva, oggi sia offensiva. Oggi è offensiva, me ne rendo conto, ma quando è stata scritta l'opera non lo era, e quindi non vedo perché fare queste modifiche, comunque, scelta, credo, della direzione artistica o del regista, se non saprei dirvi. L'altro secondo limite di questo, di quest'opera, è la clamorosa mancanza di una protagonista femminile, tra fondamentalmente le donne di quest'opera, sono tutte figure abbastanza impalpabili e sciape, insomma, che hanno piccoli momenti di gloria, ma non hanno un personaggio particolarmente interessante. Allora, è vero che il protagonista dell'opera è Fadi Nari, insomma, il tenore, ma una figura femminile un pochettino più sostanziosa gliela si poteva e forse gliela si doveva affiancare. A maggior ragione che, se consideriamo, la lungaggine di qualche punto del libretto, come dire, spazio cenere, insomma, quindi io credo che sia stato fondamentalmente, ecco, forse sì, un errore di inesperienza dei librettisti e forse anche del musicista, ma vabbè, insomma, questo è. Detto questo, l'invenzione melodica è continua, come spesso nelle musiche di rota, è quasi sempre felice, l'opera scivola via veloce e sempre piacevole. Allora, analizziamo i vari comparti. Partiamo dalla regia, che so che è quella che vi interessa spesso, addirittura più della musica, che è stata affidata a Mario Acampo. Sembra incredibile, ma è la seconda volta che faccio una recensione dove parlo di una regia decisamente apprezzabile. Il regista ha spostato l'arco temporale da quando si svolge, diciamo così, la storia originale di qualche decennio, ma alla fine il risultato è stato comunque molto buono e assolutamente credibile. Non c'è niente di male nello spostare l'arco temporale originale. L'importante è che la cosa abbia un senso, come abbiamo detto tante volte, abbia un senso dramaturgico, abbia un senso di movimento, abbia un senso rispetto a quello che viene detto. Ecco, perché se uno è su un'astronave e tira fuori una daga romana, insomma, chiaro. A me queste cose non piacciono, ma lo sapete già. Ripeto, il risultato è stato molto buono, i movimenti sono stati vari, ma sempre coerenti e soprattutto mai di ostacolo al canto. Belle scene, belli costumi, belle luci. Quindi mi viene a dire, ripensando a Frankissi Junior, si può fare. Cioè, quindi, è possibile ancora oggi, nel 2024, fare un'energia fresca e godibile senza stravolgere la storia, senza rappresentare improbabili scenari, senza scadere spesso nel cattivo gusto un po' gratuito o nel nonsense, ma soprattutto senza che i compositori librettisti si rivoltino alla tomba. Quindi, sì, è possibile, apparentemente. Io spero che la Scala continui con questo genere di dirigie, perché di schifezze anche in Scala negli anni passati ne abbiamo viste anche fin troppe, e sarà stato un caso, ma stavolta nessuno del pubblico ha contestato la regia. Anzi, è stato veramente uno dei comparti più apprezzati e più applauditi. Quindi, apparentemente, fare una regia che piace al pubblico non è reato, e si può fare, insomma. Spero che anche altre direzioni artistiche prendano contezza di questo dato. Inizio dell'orchestra è stata affidata al veterano Donato Renzetti, che ha diretto lasciando molto spazio all'orchestra, lasciandola molto suonare. Allora, partiamo dal concetto che questa, l'orchestra e il coro, non era l'orchestra e il coro della Scala, ma il coro dell'Accademia, la Scala, che è, come dire, l'Under 21 della Scala, diciamo così. E quindi è proprio bello il concetto, mi piace proprio strutturalmente, filosoficamente, didatticamente tutto, che un'orchestra giovanile sia diretta da un importante e vecchio maestro, come Donato Renzetti. Perché è uno dei modi migliori per far crescere un'orchestra, fondamentalmente. E la mia impressione, infatti, è che l'orchestra abbia molto apprezzato la sua direzione. Direzione che è stata assolutamente asciutta ed essenziale, senza fronzoli, senza sempre controllata, perfino basica, in certi punti. Ma io credo che veramente l'intenzione di Renzetti sia stata quella di lasciare, di dar fiato all'orchestra, di lasciarli suonare, senza star loro eccessivamente sul collo, come forse avrebbe fatto un direttore giovane, magari alla prima volta in Scala, doveva marcare il territorio, no? Ecco, e quindi, ma questo è normale, non sarebbe stata una critica, però un direttore giovane che arriva in un teatro importante deve far vedere che lui ha gli attributi. Un direttore come Renzetti non ha bisogno di mostrare niente e si limita a fare ciò che deve fare, insomma, ecco. Per cui, insomma, ripeto, è una direzione molto asciutta. Solo nel finale del terzo atto, nel meraviglioso finale del terzo atto, l'ho visto lasciarsi un po' andare, forse l'ho visto anche divertirsi. Ecco, non che nel resto dell'opera non si sia divertito, perché, ripeto, l'opera comunque è bella, anche da dirigere, insomma, è divertente da dirigere. Ma insomma, l'ho visto, come dire, un pochettino più lasciarsi andare. Coro e orchestra, come detto, erano dell'Accademia della Scala. Molto valido il coro, che decisamente non ha fatto rimpiangere, come dire, i fratelli maggiori. Buona anche l'orchestra, qualche piccola, trascurabile, sporcizia, ma veramente, veramente peccati veniali. Buoni gli archi, buoni i legni, in particolare il primo oboe, in particolare il primo clarinetto. Forse quello che manca a questa compagine è un pochettino di personalità, ma d'altronde la personalità te la fai con gli anni e con i capelli bianchi. Ieri, tra l'altro, ieri sera ho conosciuto un musicista che suona in orchestra, che segue il canale e che saluto. E devo dire, insomma, poi siamo fermati a parlare dopo la recita, abbiamo scambiato un po' di opinioni, e devo dire che è bello vedere questi ragazzi di poco più di vent'anni, pieni di entusiasmo, perché poi, fondamentalmente, quando fai questo lavoro da troppi anni, tende a diventare un po' cinico, no? Per cui respirare un po' di questa freschezza e di questa purezza fa bene ai ragazzi che suonano in orchestra, ma fa bene soprattutto a chi i capelli bianchi li ha. E comunque, decisamente apprezzabile la scelta che la Scala ha fatto già da tempo, non è certo la prima volta, di affidare almeno una produzione del cartellone a Accademia, coro e solisti dell'Accademia. Per cui, insomma, decisamente, decisamente un'attività lodevole per far crescere un vivaio in un momento in cui teatri e orchestre non stanno decisamente vivendo un momento particolarmente brillante, ecco, diciamo così, per cui ben venga e ottima, ottima iniziativa che mi auguro veramente che continui nei prossimi anni. Quindi dicevo, non solo coro e orchestra, ma anche i solisti, una parte almeno dei solisti veniva dall'Accademia e della Scala. Tra questi non possiamo non citare Pierluigi D'Aloia che, alla fin fine, interpretando Fadinar, è il vero protagonista dell'opera, non fosse altro perché in scena praticamente sempre, dall'inizio alla fine, insomma. Ha retto bene il palco, poi sulla recitazione, sui movimenti, dirò qualcosa un pochettino più avanti. E ha affrontato il do della sua aria con coraggio e un buon risultato. Anche gli altri punti impervi sono stati gestiti abbastanza bene. Non ancora è stato interpretato da Wang Hongli, anche lui proveniente dall'Accademia, a basso, con un bel timbro, ma soprattutto con un'ottima edizione, veramente ottima. Cioè, se avessi chiuso gli occhi avrei pensato a un cantante italiano, europeo, non certo a un cantante asiatico che spesso, purtroppo, hanno magari delle voci importanti, ma spesso l'edizione è deficitaria. Ecco, non è assolutamente questo il caso. Bravo le due soprano, Laura Lolita per Scivana, spero di averlo pronunciato bene, che ha cantato da parte di Elena con gusto e delicatezza, e Greta Doveri, che ha saputo tirare fuori calore da una parte francamente un po' ingrata e senza particolari slanci lirici, ecco, diciamo così. Bo Pertuis è stato interpretato da Vito Prianta, insomma, che è un baritone ormai in carriera e direi la voce più interessante di tutto il cast. Una bella voce, si sente, una voce a posto, calda, profonda, quando adesso è profonda, ha cantato molto bene l'aria, non solo per il fa, insomma, che non è neanche una nota così irraggiungibile, insomma, è come proprio ha cantato bene con gusto e anche lui si è mosso molto bene. A proposito di muoversi bene, tutto il cast si è mosso molto bene. Questa cosa è merito sicuramente del regista, senza dubbio che ha fatto fare ai cantanti dei movimenti, come dicevo, nella prima parte coerenti, però è anche merito, forse anche ancora di più merito, di questa nuova generazione di cantanti che si muove sempre molto bene in scene e si sta, come dire, scollando da dosso l'anomia che avevano i cantanti lirici di essere rigidi e fondamentalmente di rivettarsi alle tavole del palcoscenico. Ecco, ormai tutti i cantanti si muovono in palco come degli attori. Cioè, una volta i cantanti erano cantanti e di attoriale salvo rari casi, salvo luminosi casi, spesso avevano poco. Oggi sono tutti degli ottimi attori oltre che dei buoni cantanti. Il teatro era pieno ma non era sold out ma non credo che Meier neanche nelle sue più, come dire, ottimistiche previsioni immaginassi che si sarebbe fatto il pienone. Meier che tra l'altro Meier forse bazzica sempre tra il pubblico durante le recite e soprattutto alle le prime e anche ieri sera c'era. Però il fatto che non sia pieno che non fosse pieno che non fosse strapieno ripeto, il teatro era pieno ma non era sold out è una buona notizia perché vuol dire che ci sono ancora dei biglietti in circolazione e allora se ne trovate il mio consiglio è senz'altro di andare a vedere questo spettacolo. Ci vediamo alla prossima recensione.